Ciao a tutti e benvenuti o bentornati in questo nuovo episodio dell'ABC del Drama, il podcast dedicato a serie tv e film di produzione ansiatica. Io sono Annalisa e oggi parliamo di tre drama che ho iniziato di recente e dei quali andremo ad analizzare i primi due episodi. Sto appunto parlando della rubrica First Clance che vi ricordo ha al suo interno spoiler dei primi due episodi di ciascun drama di cui andremo a parlare. I drama di cui parliamo oggi probabilmente li avrete già letto dal titolo però appunto a me piace mantenere un po' la suspense nonostante questo. Comunque i drama di cui parliamo oggi sono Love Next Door, No Gay, No Love e The Judge From Hell che sono tre drama relativamente recenti di cui uno è ancora in corso che è The Judge From Hell che è iniziato il 21 di settembre mentre gli altri due sono già terminati. Quindi insomma abbiamo un po' di elementi da andare ad analizzare. Allora io direi che partiamo in ordine cronologico di visione così non faccio preferiti, spreferiti e non facciamo torto a nessuno. Però prima di iniziare vi volevo ricordare che questo podcast è disponibile su Spotify e Apple Podcast, tutte le principali piattaforme di streaming e soprattutto il mio canale YouTube. E appunto se vi piacciono questi contenuti vi invito ad iscrivervi al canale oppure a seguire il podcast sulla piattaforma dal quale l'ho stata ascoltando e a lasciare un commento o una recensione così da aiutarmi a raggiungere un numero sempre maggiore di spettatori. Bene direi che questo è tutto per il momento e possiamo iniziare. Allora il primo dei tre che ho visto è Love Next Door che è un drama che è iniziato ad agosto ed è terminato ad inizio ottobre l'altro ieri. Oggi sto registrando il 9 di ottobre, il drama è terminato il 6 di ottobre. Io ho iniziato il primo episodio proprio il giorno in cui è terminato e devo dire che è stata una congiunzione astrale perché io non volevo iniziarlo ancora in corso perché sapevo che mi avrebbe preso. Cioè io avevo visto già le clip, avevo guardato un po' di spezzoni, avevo visto i protagonisti che comunque sono delle attori che a me piacciono quindi io non potevo iniziarlo che era ancora in corso perché sapevo che poi mi avrebbe devastato. Quindi ho aspettato e diciamo che è un po' il destino, ho voluto che io lo iniziassi nel giorno in cui è terminato senza che io lo sapessi. Comunque, di che cosa parla? Allora, racconta la storia di questi due ragazzi che sono praticamente cresciuti insieme perché le loro madri erano molto molto amiche e loro vivevano uno accanto all'altro. Lui praticamente è stato cresciuto dalla mamma della protagonista perché sua mamma lavorava per diversi giorni, diverso tempo, faceva molti viaggi di lavoro, era sempre via e quindi lui praticamente viveva a casa della protagonista. E i due sono quasi cresciuti insimbiusi, conoscendo dell'altro tutto quello che c'è da conoscere. E la cosa diciamo che fa molto ridere perché sin da subito noi capiamo che le dinamiche tra i due sono tra le più divertenti che vedremo probabilmente in un drama di questo genere quest'anno. I due infatti hanno questo rapporto che è molto fraterno, se vogliamo, nel senso che loro litigano costantemente come io farei con mio fratello, cioè come io faccio con mio fratello. E proprio questo è quello che noi vediamo nel primo episodio. Noi vediamo un po' questo rapporto che oscilla tra questo continuo battibeccare e sostegno reciproco. E il tutto inizia quando la protagonista torna in Corea dall'America dove lei aveva vissuto nei precedenti dieci anni e dove apparentemente viveva una vita perfetta. Lei infatti lavorava per una delle aziende più importanti al mondo, aveva una posizione anche molto rilevante all'interno dell'azienda e stava per sposare un avvocato internazionale, quindi un uomo comunque di alto prestigio. Torna in Corea e cerca di nascondere a tutti non solo il suo ritorno ma anche le motivazioni che l'hanno spinta a tornare, perché appunto lei torna con notizie non proprio positive, soprattutto per i suoi genitori. Infatti il matrimonio è saltato e lei ha lasciato il lavoro, o perlomeno questo è quello che dice ai suoi genitori e a tutti quelli che la conoscono, quando li vede, quando loro la vedono e capiscono che c'è qualcosa che non va. Noi non scopriamo subito quello che è realmente successo, lo veniamo a sapere soltanto nel secondo episodio e in generale tutti i personaggi non lo sanno ancora neanche alla fine del secondo episodio, noi abbiamo una sorta di spezzone di quello che in realtà è successo e entriamo un po' in quella che è la vita della protagonista. Allora metterò le vani avanti su questo. Io non riesco ad essere totalmente obiettiva su questo drama, perché nel secondo episodio c'è una rappresentazione della protagonista che è molto molto vicina alla mia vita. Io vi giuro a un certo punto sono scoppiata a piangere mentre lei piangeva, perché ho sentito questa rappresentazione così vicina e così reale alla mia esistenza che non potevo fare altro e da quello che ho letto poi tra i commenti su TV Time di coloro che hanno visto l'episodio e che si sono rivisti nella protagonista è stato un po' un sentimento comune e appunto io proprio per questo non riesco ad essere oggettiva al cento per cento perché comunque rimane la mia oggettività seppur parziale. Quindi io sono rimasta altamente colpita soprattutto dal secondo episodio. Diciamo che il primo episodio è un po' più divertente, un po' più leggero, nel senso che la protagonista ci sembra soltanto una che è tornata a casa, ha combinato un gran casino e sta cercando il modo di risolverlo e di rivelare il casino che ha combinato nel modo più carino possibile per non essere diciamo fatta fuori dai suoi genitori, cosa che poi effettivamente non le riuscirà molto bene perché sua madre la menerà per strada per ore, ma questa è un'altra cosa. Mentre il secondo episodio è molto più introspettivo, molto più personale e va un po' di più a fondo, non solo nella relazione della protagonista con i suoi genitori, con il suo luogo d'origine e con la sua vita, ma anche con il rapporto con il protagonista maschile. Io sono innamorata di questi due, io li amo, cioè si vede proprio che tengono tanto l'uno all'altra e si vede proprio sin dal primo episodio che c'è qualcosa in più, cioè vediamo sin da subito che nonostante ci sia questa patina di rapporto estremamente fraterno, c'è qualcosa in più che sta sotto la superficie di questo rapporto che si è sviluppato per anni e anni e anni e che è rimasto lì sotto per tantissimo tempo, per tutto il tempo in cui loro sono stati separati, per tutto il tempo in cui loro si sono trattati solo come amici, per tutto il tempo in cui hanno deciso di seppellire queste emozioni probabilmente e probabilmente negli episodi successivi noi vedremo che cosa li ha spinti a nascondere tutto questo. Allora, le vibes sono perfette, i primi due episodi sono eccezionali secondo me, è una romcom come deve essere una romcom, lei è fuori di testa, lui è un cucciolotto, io li amo già insieme e so già che lei causerà così tanto caos nella vita di lui ma sarà estremamente divertente, io vi giuro io mi rivedo tantissimo in lei, potrei essere assolutamente io, soltanto che lei ha tipo dieci anni più di me, però vi giuro è una cosa eccezionale il modo in cui io mi rivedo nella protagonista. Quindi appunto, io sono assolutamente certa che continuerò questo drama, assolutamente certa, infatti appena finirò di registrare questo episodio, che lo sto registrando di mercoledì, dopo il lavoro, stanca, non ho voglia di fare niente, ma lo sto registrando perché io stasera voglio fare maratona di Love Next Story, perché non posso resistere a questa cosa, da quando ho finito i primi due episodi io sto cercando il modo di registrare questi episodi, ho visto gli altri due drama in fretta e furia, no in realtà non è vero, li ho visti, me li sono goduti perché sono bellissimi anche gli altri due, però cioè io fremo dalla voglia di continuare questo drama e adesso continuiamo con la registrazione di questo podcast perché io devo finire e andare a guardarle questi episodi. Però allora, passando alla parte delle teorie, allora sicuramente scopriremo, allora se non c'è stata una relazione in passato tra di loro, comunque c'è stato un accenno di relazione, comunque ne hanno sicuramente parlato di questo loro rapporto, perché le dinamiche tra i due sono estremamente particolari e soprattutto nella fine del secondo episodio noi vediamo delle scene che ci fanno sospettare che ci sia effettivamente stato un qualcosa di più tra loro e che qualcosa sia andato storto o che comunque loro abbiano soppresso questi sentimenti per una ragione specifica, quindi sicuramente vedremo questo. Allora io non ho parlato finora però mi sono piena ricordata della second couple di questo drama, che secondo me ci regalerà delle grandissime gioie. Allora la second couple è formata da la migliore amica della protagonista, anche lei una loro amica storica, e da questo ragazzo super impacciato che fa il giornalista, quanto ho capito, non ci viene detto moltissimo su di lui, ma appunto noi lo vediamo intervistare il protagonista nel secondo episodio, quindi capiamo probabilmente che lui è una sorta di giornalista o qualcosa del genere, comunque scrive storie e loro si incontrano per caso quando lei è in servizio perché lei fa la guardia medica e sta aiutando una persona per strada e lui interviene perché la vede in pericolo, però lui è così impacciato che mentre sta cercando di difenderla cade e quindi lei si deve difendere da sola, ma effettivamente lei è cintura nera di taekwondo, quindi comunque riesce a difendersi da sola, lei è tutto ciò che voglio essere nella vita onestamente, io sono la protagonista, però la sua migliore amica è tutto ciò che io voglio essere nella vita, e che dire, questo è tutto per questo episodio, possiamo andare a casa, però appunto loro due secondo me ci regaleranno grandissime gioie, sono una di quelle coppie che mi faranno proprio impazzire come la second couple di Ranon, se non avete visto Ranon andate a vedere Ranon perché è stupendo, la seconda coppia è fantastica, meglio della prima se posso dire, io avrei voluto un dramma solo su di loro e qui secondo me i vibe sono gli stessi, solo che la coppia principale in questo dramma è molto molto forte, quindi comunque penso che mi piaceranno da morire entrambe e io non vedo l'ora di capire cosa succederà tra tutti i nostri protagonisti, sono molto molto curiosa e teorie finiscono qua anche perché è un romance, non penso ci saranno tutti questi misteri, tutte queste cose, quindi boh, abbiamo fatto. Allora passiamo al secondo drammino, sempre in ordine cronologico di visione perché qui non stiamo facendo preferiti, ve lo dico, anche se comunque primi due, però allora andiamo avanti. Allora il secondo dramma è No Gain, No Love con la mia attrice preferita di sempre praticamente, Shin Mina, lei mio idolo assoluto, io la amo, eccezionale, fantastica, guardo tutti i dramma con lei all'interno, probabilmente lei dedicherò la mia vita, oltre che un episodio di questo podcast che probabilmente arriverà nei prossimi mesi e io ho iniziato il dramma solo per lei, solo per lei, non so niente di questo dramma, ho visto tipo qualche spezzone su TikTok e basta perché io ho visto che c'era lei e ho detto no basta, lo devo guardare, cioè perché no? Quindi di che cosa parla? Allora, i primi due episodi sono molto introduttivi e raccontano la storia di questa donna che ha una vita normale, ha più di 30 anni, ha un lavoro stabile e appunto non ha una relazione, ha una vita abbastanza nella media diciamo, solo che appunto lei si rende subito conto che per via di diverse circostanze l'essere sposata è un asset non solo all'interno del suo lavoro ma anche all'interno della sua vita in generale, quindi decide di organizzare un finto matrimonio, trova un marito che è il nostro protagonista, che è un marito non proprio intenzionato a sposarla perché è appassionato di matrimonio, perché l'amo, perché in realtà loro non vanno assolutamente d'accordo, sono cane e gatto quando si vedono, si odiano da morire e però appunto fanno un patto e lei appunto decide di organizzare questo matrimonio fittizio e lui si presta alla recita. Questa è la trama generale dei primi due episodi che mi hanno fatto morire da ridere perché, allora, a parte l'alternanza tra le visioni e l'immaginazione di lei e la realtà dei fatti, che sono tra le cose più divertenti che io ho visto in un dramma negli ultimi tempi, perché lei, allora, il dramma inizia con lei al matrimonio del suo ex, un ex che lei scopre durante il matrimonio averla tradita per sei mesi, quindi quando lei appunto lo scopre si immagina di fargli fare una gran figura di merda, cosa che poi effettivamente non farà perché è una persona molto educata, però il vibe della scena in cui lei si immagina il tutto è veramente estremamente divertente e così le altre scene in cui lei si immagina di vendicarsi nei suoi confronti. Quindi abbiamo questo personaggio estremamente comico, perché lei è veramente un personaggio comico, che però alterna momenti di estrema sofferenza, perché ha un passato un po' complesso, lei ha sempre dovuto cedere un po' tutto ciò che voleva, ha sempre dovuto fare compromessi nella sua vita, un po' perché sua madre era una donna estremamente generosa e aveva un po' questa casa all'interno della quale prendeva ragazzina fido continuamente, quindi lei ha sempre dovuto condividere le sue attenzioni con tantissime altre persone e non ha mai accettato questa cosa. E quindi noi la vediamo fare i conti con questo passato, fare i conti con il fatto che sua madre è estremamente malata e fare i conti anche con la sua realtà e con il suo presente. Uno dei motivi per i quali lei finge questo matrimonio è anche perché, e poi lo scopriamo appunto nel corso dei primi due episodi, è che lei non si aspetta che sua madre effettivamente sopravviva per arrivare a un vero e proprio matrimonio. Quindi appunto abbiamo questa parte un po' più sofferta, un po' più triste della storia, che si alterna però a parti estremamente divertenti e io sono estremamente curiosa di capire come si evolverà la situazione tra i due. Le mie teorie sono abbastanza banali, nel senso che probabilmente sappiamo tutti come vanno questi dramma con matrimonio di convenienza, probabilmente i due si innamoreranno a un certo punto e però a un certo punto dico un po' sono già innamorati. Io ho il sospetto che lui comunque abbia dei sentimenti nei confronti della protagonista perché lui è un ragazzo che l'ha osservata per anni, l'ha vista passare diverse relazioni, l'ha vista in diverse circostanze e in un certo senso l'è sempre stato vicino nonostante un po' lei fosse tutto quello che non cercava all'interno di una donna. Quindi secondo me lui realizzerà molto presto di essere in realtà innamorato di lei e lei potrebbe sviluppare dei sentimenti nei confronti di lui molto presto perché comunque lui è un figo. Cioè diciamocelo, lui sotto gli occhiali e i capelli non tagliati è un gran figo, ma posso dire anche la sua area un po' da nerdino a me piace. Io ho un problema con queste cose, cioè a me piacciono un po' i nerdini, un po' così con gli occhiali, i capelli lunghi un po'. Non lo so che cos'è che mi piace, l'area da ingegnere informatico, l'area da programmatore, l'area da, non so, intellettuale. Ho dei problemi. Comunque al di là di questo, dei miei problemi e delle mie preferenze. Io sono estremamente curiosa di questi due e sono anche curiosa di scoprire un po' il rapporto che lei ha con le sue sorelle affidatarie e in generale con tutte le persone che sono state affidate poi a sua madre durante gli anni. Cioè questa parte mi interessa molto, è molto interessante secondo me e voglio capire come la svilupperanno all'interno della narrazione. Per il resto a livello di teorie, anche qui essendo un romance non ci sono molte teorie da fare, però appunto super interessante, non vedo l'ora di continuarlo anche questo, che in realtà è finito anche lui l'1 di ottobre ed è composto da 12 episodi, quindi molto molto più breve rispetto all'altro e quindi se la combattono diciamo tra i due. Questi due sono i miei preferiti dell'episodio diciamo e se la combattono molto. Cioè quando ho guardato Love Next Door ho detto non può essere che No Gay No Love superi questo qui, in realtà poi quando ho visto No Gay No Love io ero super presa e ho detto no, questo qua è molto più bello. E adesso sono estremamente combattuta anche a mente fredda, quindi vedremo una volta finiti quale sarà il verdetto finale, ma lo scoprirete soltanto in uno dei prossimi recap che farò rispetto alle mie visioni, quindi ci vorrà un po' di tempo ma arriverà anche questo. Poi ultimo, ma non per importanza, anche se abbiamo capito che comunque io sono come quei genitori che dicono no, io non ho preferenze e poi comunque ce le ho, The Judge From Hell, che è una serie che in realtà non è disponibile su nessuna piattaforma, mentre le altre due sono disponibili una su Netflix e l'altra su Prime Video, questa qua non è disponibile su nessuna piattaforma, il che mi devasta, anche se qua mi dice che è disponibile su Disney Plus, ma io non ho Disney Plus, quindi faremo finta di niente. Allora, The Judge From Hell, di che cosa parla? Racconta la storia di questo giudice, questo è il motivo per cui non devo registrare l'episodio dopo il lavoro, ma va bene, giudice che si chiama appunto Kang B. Na, che è interpretato da Park Shinye. Allora, io amo Park Shinye nei ruoli thriller, lei trovo che abbia proprio trovato il suo posto nel mondo quando ha iniziato a fare thriller, action, horror, cioè lei è bravissima in questo genere, perché quando faceva i romance era un pezzo di legno, quindi veramente lei ha fatto un salto di qualità enorme, tra l'altro aprendosi delle strade che prima non avrebbe avuto, passando a questo nuovo genere. Io devo fare veramente l'applauso ai suoi manager, al suo manager, alla sua compagnia, chiunque abbia scelto, anche a lei assolutamente, chiunque abbia scelto di farle fare thriller perché è stato un genio in quel momento, cioè lui ha visto del potenziale che nei romance non era espresso e che qui riesce a uscire al 100%, però oltre a questa cosa su Park Shinye che per me è una dea, assolutamente, la dea dei thriller e degli horror. Allora, racconta la storia appunto di questo giudice che muore all'inizio del primo episodio e viene mandato nell'inferno. Viene giudicato da Justizia, che è il giudice dell'inferno che condanna gli omicidi e viene giudicata erroneamente e quindi quando il giudizio erroneo viene scoperto da quello che è il capo degli inferi, lui punisce Justizia mandandola sulla terra nel corpo del giudice che era morto per compiere una missione. Questa missione prevede che lei uccida dieci persone che sono state degli assassini impenitenti e non perdonati dalle proprie vittime e dalle famiglie delle proprie vittime e li mandi appunto nell'inferno. Solo appunto mandando queste dieci persone all'inferno potrà tornare al suo ruolo e tutto questo deve essere svolto nel corso di un anno, quindi appunto anche un tempo relativamente breve. Noi seguiamo appunto nei primi due episodi la storia di questa ragazza che è stata appunto picchiata da suo ragazzo e che è stata praticamente rapita da lui e maltrattata perché voleva lasciarlo. Quindi un tema molto molto forte per i primi due episodi soprattutto perché comunque abbiamo subito un forte impatto a livello tematico e appunto ad accompagnare questa storia c'è un poliziotto, un poliziotto che si chiama Andahon e che lei aveva incontrato durante un processo perché lui era stato accusato di violenza eccessiva durante un arresto. Lei lo scagiona e poi lui appunto è il detective che era incaricato del caso di questa ragazza. I due instaureranno un rapporto e inizieranno a lavorare insieme, solo che i due hanno degli obiettivi estremamente diversi. Lui punta a far marcire in prigione questo criminale mentre lei punta a farlo uscire in fretta per poterlo uccidere. E noi vediamo appunto il gioco che si svolge tra i due, il modo in cui lei gestisce il tutto, gestisce il processo, gestisce le dinamiche tra i personaggi, gestisce praticamente tutto quello che succede all'interno dei primi due episodi. E noi ci rendiamo sin da subito conto di un paio di cose. Uno, lei non è minimamente interessata al benessere degli esseri umani, lei non è minimamente interessata alla giustizia, l'unica cosa che le interessa è riuscire a compiere la sua missione per poter tornare al suo ruolo. E sin da subito noi, sebbene non riusciamo ad empatizzare con lei, perché è difficile empatizzare comunque con una persona che non ha empatia, ed è difficile empatizzare con una persona che farebbe di tutto per raggiungere i propri scopi, anche portare alla morte di alcune persone. Allo stesso tempo proviamo un'estrema soddisfazione nel vedere le punizioni che vengono assegnate comunque ai criminali che lei punisce. Penso che la scena, le scene in cui lei punisce questo criminale, siano alcune delle scene più soddisfacenti della televisione internazionale mai prodotte negli ultimi vent'anni. La soddisfazione che ho provato nel vederlo soffrire non è neanche descrivibile, ve lo giuro. Non so come descriverlo, è stato veramente soddisfacente, veramente tanto. Ci rendiamo sin da subito conto che nonostante lei sia un demone, sia un essere che va al di là di quelle che sono i normali sentimenti umani, ci rendiamo conto che molto spesso i sentimenti che lei prova li proviamo anche noi. Questo suo senso di giustizia un po' cieco, questo suo modo di affrontare le cose un po' ad occhi chiusi senza vedere il bianco o il nero, cioè per lei non esistono le sfumature, per lei non esiste niente, per lei esistono bravi e cattivi e non c'è niente che possa fermarla. E a volte ci si rende conto, guardando questo drama secondo me, che a volte siamo anche noi così e che a volte lei ha ragione nel dire che molto spesso l'inferno vero è quello che noi viviamo sulla terra. Perché ci sono così tante persone che non hanno una bussola morale e che vivono la loro vita senza pensare al prossimo, che molto probabilmente l'inferno come lo immaginiamo noi sarebbe un paradiso in confronto. Però oltre a questa cosa molto filosofica che appunto non mi aspettavo di fare in questo episodio, ma va bene, allora mi è piaciuto, mi sono piaciuti i primi due episodi, mi è piaciuto molto il mood in cui hanno introdotto la protagonista, mi è piaciuto molto le dinamiche che si sono sviluppate nei primi due episodi, sono rimasta estremamente scioccata dal cliffhanger finale del secondo episodio. Infatti frimo per vedere questo drama, proprio per capire se le mie teorie sono corrette o meno. Allora, teoria, questo è spoiler, ma vi ho fatto spoiler fino ad ora, quindi comunque, in senso, mi dispiace, ma appunto sapete che questa rubrica comunque contiene degli spoiler dei primi due episodi, non oltre, però appunto dei primi due episodi sì. Allora, nel secondo episodio, alla fine del secondo episodio, lei uccide il detective. Lo uccide perché lui confessa di aver ucciso tre persone. Lei però non chiede contesto, non chiede niente, lo accoltella e va avanti per la sua strada. Una delle mie teorie è che lui in realtà tornerà. Non so in che stato, non so in che forma, non so in che condizione, però secondo me lui non muore nel secondo episodio. Un po' perché è un po' impossibile che lui effettivamente muoia, perché ci sono troppi misteri che circondano quella che è la sua dichiarazione, quindi secondo me c'è un non detto che fa presagire il fatto che lui tornerà. E dall'altra parte io spero che lui torni perché è un personaggio che mi piaceva molto e che volevo vedere come si sarebbe voluto all'interno della narrazione. L'altra cosa è che secondo me lei nel corso di questi 14 episodi svilupperà un senso di empatia e riuscirà sempre di più ad entrare in contatto con le vittime degli omicidi o comunque delle persone che lei andrà a uccidere. Questa è la mia teoria. E la mia teoria è anche che lei sia stata mandata sulla terra proprio per questo, per sviluppare questo senso di empatia, perché probabilmente il suo ruolo di demone l'aveva fatta diventare fredda e inaridita e lei non percepiva più la differenza tra buoni e cattivi e quindi questo stava influenzando il suo lavoro all'interno degli inferi. Quindi questa è la mia teoria. Sarà vero, sarà no, non sarà vero, lo scopriremo soltanto vivendo anche perché questo drama è in corso e siamo soltanto a cinque episodi, no, sì, sei episodi sono andati in onda finora, quindi abbiamo comunque un mese di episodi ancora davanti a noi e io probabilmente recupererò prima gli altri due proprio per questo, per dare spazio comunque al drama di fare il suo corso per poi vederlo tutto insieme. Anche questo sicuramente lo continuerò e anche solo per la curiosità di vedere se effettivamente il detective muore o meno, però appunto è uno di quei drama che sicuramente voglio continuare. Bene, direi che questo è tutto con l'episodio di oggi. Spero come sempre che vi sia piaciuto e vi sia stato utile, in tal caso vi invito a lasciare un mi piace, commentare, iscrivervi o seguire il podcast dovunque voi lo stiate ascoltando e se volete parlare con me rispetto agli episodi di cui vi ho parlato oggi, rispetto a altri drama, consigliarmi dei drama che secondo voi dovrei recensire all'interno di questo podcast, suggerirmi dei drama che secondo voi potrebbe essere interessante analizzare oppure volete che io vi recensisca dei drama in uscita, ditemelo così io poi mi preparo un attimo e lo facciamo. E niente, direi che questo è tutto, noi ci sentiamo al prossimo episodio e io vi auguro tantissime belle visioni. Ciao ciao!